Allora ragazzi Sciclub Senigallia si parte Ok allora stavamo riprendendo andate giù di qua verso il sole ragazzi dai forza Vai Claudio Sciclub Senigallia-Mottolino sabato 16 marzo 2013 La neve da paura Vai Lorenzo Queste belle curve calmate bravo Vai Arnaldo Ecco Claudio guarda guarda Claudio sembra un atleta guarda che stile ragazzi con una neve così Bravo Claudio Bellissima giornata